Allora, buon pomeriggio agli utenti del Monito. Sono qui oggi pomeriggio con un avvocato che avete già visto anche sul grande schermo, un avvocato che non si fa attendere tra l'altro, ma anche in abbastanza televisivo, ma soprattutto un grande professionista. E vi farò capire perché, perché c'è un percorso non soltanto personale e professionale, ma un percorso, diciamo, emozionante da raccontare ai nostri utenti. E allora voglio salutare quindi qui con noi l'avvocato Giannettore Cassani. Buonasera, ciao Rosa. Buonasera a te. Allora, innanzitutto ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, soprattutto perché oltre ad essere un famoso avvocato, sei anche uno scrittore. E i titoli dei tuoi libri ci colpiscono tantissimo. E allora, possiamo quindi iniziare questa puntata scoprendo un po' quelle che sono le carte del tuo ultimo scritto. C'eravamo tanto diati, giusto? C'eravamo tanto armati. Abbiamo lo scritto di dichiaro divorziati e poi perplessi sposi. Sono tre saggi romanzati dove io racconto storie vere, storie di tragedie che sono passate per il mio studio, e poi per il tribunale. Ho raccontato con un taglio quasi ironico, ma molte volte anche drammatico, la violenza in famiglia, le tragedie familiari, le separazioni, i divorzi, i fili contesi. Questa infanzia negata, ma soprattutto la violenza. C'eravamo tanto armati, è una rassegna di tutte le declinazioni della violenza. Quella che vedo, che tocco tutti i giorni nei tribunali, purtroppo è una delle emergenze più gravi del nostro paese. Soprattutto la violenza nei confronti delle donne, la violenza nei confronti dei bambini. È un'emergenza che purtroppo ancora oggi è emarginata e di cui se ne parla soltanto quando c'è il fatto di cronaca eclatante. Noi dovremmo tenere sempre la sticella dell'attenzione molto alta. Perché io come avvocato sono testimone del nostro tempo. Io ho visto nella mia vita situazioni che non posso neanche raccontare nei libri. E avendo iniziato il mio percorso di avvocato nel diritto venale, ho visto anche le tragedie, gli omicidi. Ho capito che cosa significa la violenza familiare che è comunque un retaggio della sottocultura del nostro paese. Perché la donna viene considerata fondamentalmente un oggetto, un territorio da controllare. Se la donna in certe occasioni osa lasciare l'uomo, succedono tragedie. Perché la questione culturale non è soltanto giudiziaria. Per cui noi dobbiamo formare le coscienze degli uomini, dei maschi, già quando iniziano a camminare, già quando vanno a scuola, già nel rapporto con l'altro sesso. Noi potremo anche aumentare le pene, dare il gas a tutti, ma non risolveremo il problema. Se soprattutto non cambiamo la coscienza sociale. E l'Italia è un paese molto arretrato da questo punto di vista. Perché per esempio quando io ho partecipato agli interrogatori dell'orco di casa, le risposte che dava il magistrato o a me, erano quelli di dire, beh ma lei mi aveva lasciato, ma lei stava con un altro, ma lei si era permessa di andare dall'avvocato a chiedere la separazione. Quindi io l'ho percossa, qualcuno l'ho ammazzata, ho esercitato un diritto. Ecco, davanti a questi retaggi culturali c'è da rimanere veramente interdetti. Ecco perché io ho scritto, c'eravamo tanto armati, perché ho posto l'accento sulla sottocultura di molti uomini. E poi ci sono gli altri libri, vi dichiaro divorziati, dove spiego tutte le questioni che riguardano la coppia, perché si lascia, le infedeltà, la gestione dei figli, gli assegni, le case, insomma spiego in maniera molto semplice. Ho parlato in italiano, non in avvocatese. Quindi questi libri hanno avuto un enorme successo nazionale. Ho venduto come se fosse un vero scrittore, io scrittore non sono, sono un saggista, ma sono soprattutto un avvocato. Però questi libri, un po' per il titolo, un po' per il taglio che ho dato, anche per la prefazione di Maurizio De Giovanni, che ha dato comunque un grande contributo, beh, devo dire che hanno riscosso un successo che francamente un avvocato non si aspetta. Del resto non è questo il mio lavoro. Io tornerò ovviamente a fare l'avvocato. Adesso ci sarà un nuovo libro, fra qualche mese, ma ripeto, la mia vocazione è formare gli avvocati, sono il presidente di una grande associazione forense. Vivo tra Roma e Milano e i libri ovviamente ti tolgono tempo. La fortuna è che comunque non perdo tempo neanche quando viaggio, che quelle tre ore di viaggio a Roma-Milano io scrivo, anche su fogli di carte, di fortuna, insomma, riesco a raccogliere idee. E quindi noi ricordiamo ai nostri utenti che tu sei anche presidente nazionale dell'Ami, che è chiaramente una responsabilità, ma quando tu parli con gli avvocati, qual è il messaggio che lanci loro per cercare di scoprire anche la verità quando hanno a che fare con i loro clienti? Sai, a volte le goffie che si separano un po' raccontano ognuno la loro verità. Come si fa a bilanciare, no? La giusta, cioè il giusto equilibrio? Beh, la verità spesso i clienti non te la dicono subito, te la dicono a rate, come una finanziaria. Oppure l'avvocato deve essere talmente bravo a spremere come un limone il proprio assistito già a prima incontro e fare in modo che la verità emerga. Del resto, quando il cliente mente o l'avvocato esperto se ne accorge, perché le bugie sono raccontate sempre in un certo modo. Per cui, quando l'avvocato è bravo, ripete magari la stessa domanda usando parole diverse e troverà sempre risposte diverse. Poi, in qualche modo, arriva al sodo, anche perché un cliente che dice una bugia all'avvocato si suicida, perché poi succederà che va in udienza e lui e il suo avvocato saranno sconfessati dalle prove che l'altro avvocato, l'avvocato di controparte, porterà. Conviene dire la verità. Ovviamente sono un mediatore. Laddove è possibile cerco di lavorare su un accordo. Cerco di calmare gli animi, perché veramente certe volte ci sono situazioni incontrollabili. Ed è anche molto pericoloso. Ho molta paura di questa materia. Io quando difendevo i delinquenti avevo meno paura. Perché in Italia le vicende separative e divorzili, quindi la fase patologica del matrimonio, producono più morti della mafia. Quindi c'è una paura di fondo enorme per chi ha un senso di responsabilità nell'espletare questa nobile professione. Quando viene un cliente può essere il potenziale assassino o la potenziale vittima. Quindi bisogna andarci piano, essere prudenti, cercare di non andare mai oltre. In queste cause non si vince, non si perde. si deve soltanto cercare una soluzione. Perché nel momento in cui si entra in tribunale si è già perso. Già c'è una sconfitta. Perché quando un sondarizio familiare si disgrega. Quando i figli diventano i bambini con la valigia. Quando per loro non esiste più un punto di riferimento, ma ne esistono due. Due case, due modi di vivere. Perché i genitori comunque hanno una loro personalità. Perché questa è già una tragedia. Allora io credo che almeno un'anestesia al dolore bisogna farla. Allora l'avvocato è esperto in materia, specializzato in materia. È completamente diverso dall'avvocato degli sfratti e dei recuperi crediti o delle botte di macchina come si dice da qualche parte. Perché lì devi vincere. Perché giustamente il tuo interlocutore è una compagnia di assicurazione. Ma dall'altra parte ci sono bambini. E credo che fondamentalmente quando una donna o un uomo mi dà un incarico io mi sento intimamente avvocato di quei bambini. Non della mamma o del padre. Quindi quando mi muovo penso sempre dal punto di vista che può avere un bambino. E credo che noi siamo come studio intervenuti drasticamente soltanto nei casi in cui non potevamo fare altrimenti. Ecco perché la nuova mentalità dell'avvocato matrimonialista non è essere quella del guerra fondaio. Perché molte volte anche gli avvocati sono responsabili di certe tragedie. Anche gli avvocati sono poi i responsabili del conflitto che si alimenta e non finisce più. Io non sono un corporativo. Per quanto sia il presidente dell'associazione avvocati matrimonialisti e faccia parte del governo degli avvocati. Io sono un grande critico della categoria. Perché è un conto essere avvocato e un conto essere un iscritto all'albo. Siamo due cose molto diverse. Siccome quella dell'avvocato non è un ripiego ma è una missione è arte. Fare l'avvocato è arte se vuoi farlo a un certo livello. Se vuoi fare l'avvocato per campare è un altro discorso. Ma se tu entri a piedi uniti nella vicenda di una famiglia o lo fai con umiltà e con paura quella paura nascosta ma ci deve essere o altrimenti lascia perdere e fai altro. Ho visto troppe tragedie in questi anni e le racconto nei miei libri per poter poi in qualche modo violare questa linea di condotta che devo assumere. E quindi gli avvocati dell'Ami siamo tantissimi siamo in tutta Italia siamo sparpagliati come le caserme e i carabinieri e abbiamo creato un nuovo modo di intendere la professione forense perché lavoriamo molto con i psicologi con i mediatori familiari i nostri studi sono arricchiti dagli altri saperi per cui quando c'è una violenza sessuale prima di fare denunce prima di mandare in procura cerco di capire con il medico legale con lo psicologo con lo psichiatra se c'è un fondamento di verità almeno un minimo fondamento ecco perché dobbiamo lavorare un po' come lavorano i francesi gli inglesi i tedeschi insomma io avendo lo studio a Milano spesso ho contatti anche con l'estero e mi rendo conto che quegli studi sono delle aziende non c'è più l'avvocato solista con la segretaria che fa le sue pratichette no lì è proprio un'azienda c'è un brand da rispettare c'è un livello tecnico da preservare non è più possibile l'avvocaticchio che fa di tutto di più la zecca garbugli perché la zecca garbugli è il diritto di famiglia come il sale per un diabetico o meglio per uno che ha problemi renali è come lo zucchero per il diabetico quindi voglio dire attenzione agli avvocati tutto fare quello che fanno di tutto di più che parafina non fanno niente ed infatti l'atteggiamento che a volte hanno dei legali no residuali rispetto allo sbrigare le faccende familiari è molto deleterio però le devo porre una domanda quanto la convivenza forzata nel periodo covid ha inciso sulle separazioni e tra l'altro anche quindi sulla violenza domestica tantissimo lo scrivo nel prossimo saggio io ho fatto ho scritto un paio di capitoli sulla famiglia al tempo del covid c'è stato un aumento esponenziale di violenza in famiglia soprattutto quelli assistiti dove i ragazzi sono stati costretti a vivere l'incubo dell'aggressione di un genitore verso l'altro quasi sempre il padre verso la madre molte coppie sono scoppiate perché se prima potevano in qualche modo camuffare questa crisi perché ognuno dei due comunque la mattina si alzava e andava a lavorare e si tornava la sera la convivenza forzata H24 ha in qualche modo fatto venire a galla tutte le problematiche che erano state risolte sono state scoperte tante infedeltà da parte di lui e di lei perché magari il cellulare tradisce o se te lo porti pure in bagno c'è qualcosa che hai fatto o stai per fare è perché soprattutto qualche uomo che spesso è molto più banale della donna da questo punto di vista e non solo da questo punto di vista si è fatto sgamare con il cellulare acceso o col computer acceso oppure magari ha bisbigliato cose che la moglie ha sentito è successa la tragedia a molte famiglie oppure per esempio quelle relazioni segrete con altre persone c'è un'alta componente di coppie che hanno altre vite anche se sono apparentemente unite che vanno a braccetto la domenica per il corso per far vedere che sono la famiglia del mulino bianco io da avvocato ho un'altra visione purtroppo o fortunatamente a seconda dei casi della famiglia diciamo che un 30-40% ha altre vite quindi quando siamo arrivati al covid lei che ama un altro uomo lui che ama un'altra donna sono impazziti e quindi gli italiani che hanno una grande fantasia gli sono inventati tutti gli alibi per uscire di casa quindi chi diceva di andare al supermercato non è detto che andasse a comprare il latte forse andava a trovare l'amante è successo anche questo l'ho visto qualcuno mi ha avvertito che stava succedendo questo quindi e poi è chiaro che l'insofferenza ha portato anche a livelli di esasperazione quindi c'è stato un aumento del 74% delle violenze intrafamiliari secondo i centri antiviolenza ci sarà un aumento del 30% delle separazioni da qui al 31 dicembre quindi ci sono anche dei dati statistici non sono soltanto delle opinioni è aumentata la violenza intrafamiliare assistita ci sono molti bambini che saranno sicuramente periziati nei prossimi mesi perché dovranno riferire quello che hanno visto dovranno uscire dall'incubo di queste aggressioni per cui c'è stata anche un'emergenza familiare e devo dire che noi avvocati abbiamo fatto la nostra parte non soltanto ovviamente i medici ai quali il mio ringraziamento eterno per quello che hanno fatto con quelli dei supermercati i farmacisti anche gli avvocati hanno fatto la loro parte in silenzio perché ci siamo tutti inventati un nuovo modo di fare gli avvocati perché i nostri telefoni scottavano perché le telefonate ci arrivavano lo stesso non potevamo ricevere i clienti i tribunali erano chiusi ma i consigli li abbiamo dati lo stesso e per esempio tante volte io dicevo a quella donna maltrattata signora mi chiami quando va a fare la spesa perché non posso chiamarla o lei non mi può chiamare col marito a un metro cose che non aveva mai fatto prima quindi ci siamo tutti inventati un nuovo modo di fare gli avvocati per tutelare la gente l'abbiamo fatto gratis settamore dei perché là c'era poco da fare cioè con donne rinchiuse in casa come delle carcerate e non è che potevi dire venimi a pagare la consulenza ma di che siamo stati tre mesi chiusi in casa e tra l'altro chiamava gente da tutta Italia insomma quindi devo dire che l'avvocatura ha saputo ancora una volta dimostrare il proprio formidabile ruolo sociale e lo ha fatto con onore continua a farlo basti pensare che in questo momento i tribunali lavorano ancora a mezzo servizio e nonostante tutto io nel mese di agosto ho comunque avuto il cellulare acceso come tutti gli altri avvocati che si occupano di famiglia quindi il ruolo dell'avvocato è emerso anche in questa fase drammatica quindi come bisogna riflettere sul fatto che il diritto di famiglia si intersechi perfettamente anche con quelle che sono le maglie del diritto penale di questo ne parliamo anche in puntate precedenti con il magistrato Valerio De Gioia che appunto parlava delle difficoltà di raccogliere tra l'altro le denunce da parte delle donne che subiscono violenze e allora a questo punto mi rendo conto che l'azione quindi dell'AMI dell'associazione che lavora anche con psicologi e chiaramente incide e anche cerca di aiutare le donne in questo senso assolutamente assolutamente sì tra l'altro Valerio De Gioia mio caro amico e anche socio onorario dell'AMI con lui ho scritto per la tribuna un testo sul codice rosso e quindi ecco la legge che è stata varata proprio a tutela dei soggetti deboli della famiglia sì è stato un periodo in cui è stato difficile per le donne anche chiedere aiuto poi hanno introdotto il 1522 che non mi stancherò mai di ripetere tutte le volte in caso di violenze intrafamiliari però è ovvio che in un paese bloccato paralizzato insomma le tutele per le donne non sempre sono arrivate puntuali anzi voglio dire una cosa e questo lo dico con il cuore spezzato anche quando le donne denunciano spesso la tutela non c'è basti pensare nel 54% delle donne nei casi di donne uccise ebbene si tratta di donne che avevano già chiesto aiuto quindi questa è la sconfitta del sistema cioè è facile dire ad una donna denuncia ma poi quando la denuncia si tramuta in una condanna a morte come la mettiamo cioè quando lei va in caserma dei carabinieri e denuncia il marito e poi il marito viene a sapere dopo poche ore una situazione di questo tipo chi tutela quella donna allora noi ci riempiamo la bocca di tutela delle donne facciamo le fiaccolate facciamo tanti bei discorsi ma secondo me non c'è ancora una sensibilità che miria a tutelare sul serio le donne e i bambini perché attenzione c'è anche una mattanza di bambini e lì poi si apre un altro discorso di genitori del genere insomma le ultime notizie che stiamo ricevendo anche durante il lockdown ci fanno accapponare la pelle insomma i soggetti deboli delle famiglie sono lasciati a loro destino c'è poco da fare ed è chiaro come quindi la sua attività rispetto la tua attività rispetto quindi a questo campo del diritto è proprio tesa nell'attenzione a difendere i deboli ma la separazione a divorzio era soprattutto uno sport per ricchi una volta ne parlai con il presidente del tribunale di Napoli e mi disse proprio questo mi disse che si poteva proprio in base appunto a quelli che sono i cardini della legge sull'affidamento e qui vorrei introdurre con lei con te un argomento importante quello che è lo squilibrio rispetto alle posizioni dei padri separati di questa legge beh è una legge tradita ma questo è un problema culturale come è un problema culturale pensare che la donna sia un oggetto è un problema culturale la madre che pensa che i figli siano solo suoi ed è un tipico atteggiamento del centro-sud d'Italia e se abbiamo 8 milioni di mammoni che non mettono su famiglia che stanno distruggendo i sogni delle loro fidanzate e delle loro mogli perché sono a contatto con le mamme dalla mattina alla sera e fanno a gara chi cucina meglio tra la mamma e la moglie questo è quello che abbiamo voluto noi perché da quando abbiamo messo in naftalina la figura paterna quando prima il padre contava oggi della serie viene avanti cretino perché questo è quello che si fa con i padri è normale che siamo una società di orfani di padri vivi quindi come io combatto senza mezzi termini la violenza in famiglia mi rendo perfettamente conto che anche se tu padre sei un premio Nobel della pace quando sei un uomo che va a separarsi sei un cialtrone per cui perderai i figli o li vedrai col contagoccio o li vedrai se hai una donna dall'altra parte intelligente che sa valorizzare la figura del padre e capisce che i genitori sono due i figli nascono da due genitori soltanto Gesù Cristo è nato da una madre che non aveva avuto rapporti sessuali tutto il resto è il frutto dell'incontro di gameti e di cromosomi punto e basta questo è un problema solo italiano è un problema solo italiano perché io non credo assolutamente anzi posso escludere che in Germania in Francia in Inghilterra ma anche nella Spagna che è molto simile a noi si verificano le cose che succedono in Italia lo devo dire con grande dispiacere perché l'Italia è sempre stata la cura del ditto ma fin quando noi riteniamo che il padre sia soltanto un donatore di seme o di soldi noi non andiamo avanti perché anche questo è un problema serio in nostro paese devo dire però che molte donne si stanno battendo per la figura del padre perché poi le figlie adorano i padri ma soprattutto le nuove compagne degli ex mariti si stanno rendendo conto perché poveretti anche loro si stanno in queste battaglie quanto sia difficile per un uomo avere a che fare con una donna che ha deciso di metterti i figli contro quindi fermo restando che quando si riesce a consensualizzare e si hanno due persone civili bene o male i figli continuano a vivere ma avere figli contesi come un bottino di guerra o essere orfani di un genitore vivo di un padre vivo questa è un'altra tragedia questa è un'altra violenza questa è violenza lo è come uno schiaffo perché quando un bambino è costretto a essere accerchiato dai servizi sociali deve andare a fare le perizie per stabilire come sta deve essere sentito dal magistrato il cosiddetto ascolto di me tu l'hai violentato perché a 12 anni un bambino deve giocare in un cortile a pallone non deve entrare in un tribunale allora se i genitori usassero il cervello e cominciassero a pensare che ci si può anche lasciare perché è carità se due persone non si amano ognuno per i fatti suoi ma che i figli non si separano ai genitori non esiste la separazione o il divorzio da un padre o da una madre tante cose cambierebbero io lo scrivo anche nel libro vi dichiaro divorziati perché per esempio io posso l'accento anche sui falsi abusi c'è anche una violenza che non esiste come io dico e insisto attenzione combattiamo la violenza in famiglia e l'ho detto fino adesso mi pare di averlo anche scritto attenzione ci sono anche le false violenze ci sono anche quelle costruite a tavolino anche per colpa di qualche avvocato delinquente il quale pensa di poter vincere una causa civile con lo spettro degli abusi sessuali del padre pedofilo e violento tante volte non è così del resto le stesse procure sono esasperate dalle false denunce perché i magistrati e i poliziotti e i carabinieri sono costretti a lavorare sul nulla facendo perdere risorse verso i casi che effettivamente sono gravi e che si sono consumati per cui il trucco per vincere una causa di separazione o divorzio per alcuni avvocati senza coscienza e per persone che non hanno alcuna dignità è quello di inventarsi sana pianta che quell'uomo è un pedofilo poi perché prima di tutto gli togliamo i figli gli sospendiamo gli incontri dopo il che vedremo fa 4-5 anni come va a finire tutto il tanto quell'uomo l'hai ucciso l'hai ammazzato abbiamo parlato quindi di cause di separazioni come ho capito il stradimento sembra quasi essere sempre in pole in pole position ma dopo il covid noi ci siamo resi conto soprattutto leggendo quelle che sono le trame dell'ANSA che ci avvieremo verso una crisi economica questo inciderà quindi anche sulle separazioni e soprattutto al sud dove le donne spesso non sono indipendenti sì soprattutto nel sud le donne non sono indipendenti perché esiste una cultura maschilista che non le valorizza io che ho una figlia sto cercando è adolescente di far capire quanto è importante il lavoro che doveva fare su se stessa per combattere una società di maschilisti e nel sud questo purtroppo ci sarà quindi la crisi economica avrà delle ripercussioni sulle separazioni e i divorzi ma non credo onestamente che nemmeno la miseria possa fermare la voglia di una donna o di un uomo di dire basta soprattutto quando ci sono violenze in famiglia perché è meglio mangiare pane e acqua e stare sotto un ponte che in un castello dorato perché di donne che avevano tutto ma che non ce l'hanno fatta più con l'orco di casa ne cosco tante hanno preferito tornare a vivere la vita di prima piuttosto che fare le murate vive quindi io credo che indubbiamente la crisi economica ci sarà ormai stiamo per finire la bolla nella quale abbiamo vissuto in questi mesi a settembre ottobre prevedo una situazione sociale molto pericolosa molto pericolosa perché quando la gente si renderà conto degli effetti ritardati del covid soprattutto in certe città in certe regioni ci sarà veramente una situazione molto difficile per cui se la politica e il governo non elargisce fondi aiuti economici si andranno a fare rapine alla salumiere non più in gioielleria per un pezzo di pane perché questo è quello che stiamo prevedendo tutti per cui le famiglie bene o male benestanti andranno avanti ma pure loro avranno delle prime difficoltà per cui mi auguro che i soldi europei arrivino presto perché indubbiamente le famiglie quando si affaccia alla miseria si spaccano ancora prima di questo ne siamo certi e sono anche contenta che abbia dato quindi questa lettura questa lettura anche politica a quello che avviene la famiglia una famiglia sempre un po' meno al centro dell'attenzione della politica lei crede che debba ritornare un messaggio quindi da parte dei nostri partiti della nostra politica in favore proprio di questa istituzione e in che senso cioè nel riportare la famiglia tradizionale o nell'aiutare invece in maniera intelligente la famiglia a ritrovare il senso di essere uniti ma noi veniamo da una stagione di anni e anni di politici che purtroppo non sono all'altezza del compito io non faccio politica anche sono simbolizzante radicale ma insomma ho una mia idea della politica ho lavorato per le unioni civili ho lavorato per i diritti civili il divorzio breve però non mi sono mai impegnato nei partiti tradizionali perché mi rendo conto che per fare politica bisogna soprattutto essere direttanti e lo dico non avendo ripeto nessuna velletà di politica attiva io credo che ci sia stata una grande sottovalutazione del pianeta famiglia nel nostro paese perché abbiamo avuto a che fare con gente che non ha capito che se la famiglia si ammala si ammala tutta la società quali sono le politiche della famiglia che sono state poste in essere anche dall'ultimo governo come fa un giovane a Roma o a Milano piuttosto che a Napoli a sposarsi quando non c'è l'accesso al credito quando un affitto di casa costa quanto un intero stipendio noi ci lamentiamo che l'Italia è passata dal mezzo milione di matrimoni nel 70 ai 200 mila dell'anno scorso bene è normale che sia così è normale che un ragazzo a 30 anni si guadagna 1000 euro al mese e la ragazza ne guadagna altre tanti è difficilissimo mettere al mondo dei figli visto che non ci sono asili nido non c'è una politica di incentivazione a mettere su famiglia per cui noi sia nella fase fisiologica che patologica siamo in ritardo cioè nella fase fisiologica quando devi costruire gli amori e i legami ma siamo in ritardo anche quando gli amori finiscono perché i tribunali sono sgangherati non funzionano a volte per avere un'udienza devi attendere 7 mesi 8 mesi il pianeta famiglia nell'agenda politica all'ultimo posto quando dovrebbe essere al primo perché quando una famiglia si ammala si ammala un condominio si ammala un quartiere si ammala l'insegnante la scuola gli amici è qualcosa di talmente brutto che appunto ci vuole uno stato presente per cui è giusto che la gente si separi ma ci deve essere tutto un welfare per capire anche poi quale sarà il destino di quei figli quindi questo l'attuale governo ma anche quello precedente anche quelli degli anni scorsi hanno pensato a tutto tranne che la cosa più importante che è la famiglia quindi avvocato è d'accordo quindi col monito di Mario Draghi rispetto al messato sui giovani all'apertura del convegno di Rimini dove richiama anche alcune caratteristiche tipiche dei politici che debbono dimostrarsi più concreti più responsabili nei confronti del futuro dei giovani soprattutto quelli del sud noi abbiamo rubato la gioventù a tanti giovani tante speranze e questa è la verità Draghi ha detto una cosa giusta sembra una cosa banale ma forse è la cosa che andrebbe detta tutti i giorni abbiamo rubato il futuro a tanti ragazzi adesso dobbiamo restituirlo purtroppo il covid ha complicato un po' le cose però credo che se la politica non si concentra sui futuri uomini sulle future donne di questo paese noi non abbiamo futuro basti pensare che nel nostro paese c'è una natalità zero cioè secondo gli statistici fra 60 anni non ci saranno più italiani siamo già fuori tempo massimo per cui se non si incentiva la famiglia le nascite finalmente si ritorna a mettere al mondo figli che è l'unica speranza che abbiamo noi non ce la possiamo fare neanche economicamente perché se il 60% della popolazione per qualche anno sarà di over 65 chi lavora chi porta i soldi a casa se poi i pensionati vivono ovviamente del sussidio e della pensione che fine faremo questo è il problema quindi anche per un discorso economico oltre che morale e sociale la politica serve la politica significa lavoro significa futuro significa muovere i soldi l'economia l'entusiasmo di un popolo questo è un paese spento completamente spento la gente ormai vive solo di facebook di fesserie senza valori senza ideali uomini e donne indifferentemente è un paese senza ideali senza fermento e io credo che ecco indubbiamente anche la mancanza di famiglia ha fatto sì che una ragazzina a 13 anni possa esporsi su instagram perché come succede anche questo quindi anche noi lo vediamo noi avvocati ci arrivano poi le lettere di protesta dei padri delle mari abbiamo una abbiamo perso i figli li abbiamo persi ormai a 14 anni fanno quello che vogliono gli diamo la playstation stanno sui social non c'è più un dialogo con loro non si cena con loro non hanno più rispetto per i genitori quante cose che vedo ecco molta gente non si rende conto l'avvocato è un po' il termometro della situazione perché io ricevo i racconti di centinaia di persone e poi tutti mi raccontano di una famiglia con dei silenzi assordanti dove non ci sono più regole dove anche a 13 anni a 14 anni la ragazzina sogna un seno nuovo dove il ragazzino a 14 anni sogna di fare il calciatore non pensa che forse qualsiasi lavoro ha una sua dignità tutti vogliono fare i level in e tutti vogliono essere Cristiano Ronaldo questa è la verità di questo paese e allora una domanda mi viene da porla perché me la stanno anche scrivendo tra l'altro gli utenti che ci stanno seguendo che fine hanno fatto i rapporti degli uomini e le donne alla luce insomma dei social cioè che cosa è successo perché gli uomini non corteggiano più come un tempo ma perché gli uomini hanno smesso di fare gli uomini perché gli uomini non hanno più la faccia tosta se ti piace una donna devi fare di tutto senza essere uno stalker per conquistarla e lo devi fare nel modo più più cavalleresco più più bello più gentile e oggi l'uomo è o è un è una persona che si comporta molto male perché scrive delle cose insomma mi raccontano alcune amiche anche di approcci molto volgari io credo che la cavalleria il corteggiamento sia una bellissima cosa e penso che la donna sia ben felice di essere corteggiata però da un signore da un cavaliere non da insomma da una persona senza regole e senza rispetto e l'uomo molte volte è anche molto sbrigativo l'uomo pretende tutto e subito non sa che a volte è bello corteggiare portare a cena una donna essere un po' cavaliere invece no si è molto sbrigativi del resto sui social mi sto rendendo conto che gli uomini basta che una donna respiri mandano messaggi uguali a tutte quante alla cosiddetta pesca strascico quanto se è bella lo mandano in contemporanea a 2000 donne poi qualcuno abboccherà ed è una tristezza infinita perché era così bello il ballo lento invitare una donna a prendere un caffè andarci piano cercare di capire cercare di farti conoscere invece questo atteggiamento consumistico di molti uomini verso le donne è una cosa che francamente mi dispiace molto è molto bello amare una persona ma è molto bello anche conquistarla però qual è la colpa una colpa che le donne da dare alle donne rispetto quindi a questo atteggiamento che assumono gli uomini cosa non dovrebbero fare come consiglio io penso io non credo che le donne abbiano particolari responsabilità perché le donne oggi fanno i conti con uomini che non sono quelli di una volta un po' bamboccioni un po' insicuri sempre molto fragili pieni di problemi la donna non vuole fare la croce rossina la donna vuole essere la tua amante vuole essere la tua compagna vuole camminare al tuo fianco vuole conquistare il mondo con te ma non vuole fare né la croce rossina né la badante né una che ti deve in qualche modo riprendere dai tuoi problemi insomma non è questa la funzione della donna poi ci può essere anche questo in momenti importanti della vita ma quando c'è un legame importante le donne possono essere responsabili di cose io penso che il problema è l'uomo che è cambiato è l'uomo che è profondamente cambiato è l'uomo che è tornato non indietro è l'uomo che non ha più quelle certezze e quelle sicurezze per cui i racconti di molte donne i racconti di molte amiche ma quello che vediamo nella società descrivono non tutti gli uomini per fortuna ma una buona componente di uomini assolutamente insicuri fragili che non hanno progetti la donna ha bisogno di un progetto per innamorarsi la donna ha bisogno di un cervello per innamorarsi perché non c'è nulla di più bello importante e pericoloso di un bel cervello perché tanto ci si abitua alla bellezza anche la donna più bella del mondo ne ho conosciute tante anche quel lavoro che faccio ovviamente difendo molte attrici cantanti ma ci si abitua dopo tre giorni ma quello che ti prende di una donna ad un uomo è la testa c'è poco da fare e invece rispetto e poi la lascio al suo lavoro ma la vedo così cordiale e così comunicativo così comunicativo anche con i nostri utenti che vedo molto interessati il recupero del rapporto con i figli il padre e le madri come devono fare per intervenire per inserirsi in questo invece il rapporto d'amore con i social con i cellulari con i computer come devono fare a mio parere i genitori devono essere genitori e non devono fare gli amici a me sta storia del padre che si mette a fare l'amico del figlio la mamma che si veste come la figlia anzi fa concorrenza alla figlia cioè mi pare che siano saltati gli schemi per cui essere sempre molto dolci e pazienti e in qualche modo dialoganti con i figli ma fare i genitori quando è no è no e bisogna saper dire anche il no e motivarlo non dire no per fare i dittatori in casa ma ci sono dei no che bisogna saper dire sono terapeutici ma quando vedo certe volte per Roma ragazzine di 12-13 anni o ragazzini che a mezzanotte l'una stanno in mezzo alla strada va bene con minigone tacchia spila a quell'età ma la colpa di chi è? delle ragazzine o di una famiglia che non c'è? qui c'è un problema proprio anche di omesso controllo di base tutta una città come Roma che è complessa anche pericolosa in certi quartieri allora quando la famiglia viene meno perché magari il padre e la madre stanno a chattare tutti i giorni e non hanno il tempo per stare con i figli è normale che c'è una devianza minoria per cui i figli devono avere una libertà ma fino a un certo punto cioè la modernità non significa dare le chiavi di casa ai ragazzi a 12 anni con quello che noi vediamo in giro credo che i ragazzi devono avere quella dose di fiducia ma fino a un certo punto quando poi arrivano a una certa età è giusto che sia così credo che se non bruciamo le tappe forse ce la facciamo ma quando io vengo a scoprire dal tribunale pieni minorenni che ci sono tantissime minorenni che hanno avuto rapporti sessuali a volte ci sono state anche gravidanze insomma la colpa non è sempre dei bambini non è sempre dei ragazzi c'è anche di chi probabilmente non ha colto dei segnali per cui ecco che l'avvocato di famiglia ecco mi sento l'avvocato di famiglia è uno abituato a sentire tanti racconti credo che la famiglia deve riappropriarsi della propria autorevolezza e non andare a fare la guerra ai professori agli insegnanti a scuola a fare le cause agli insegnanti a presidiare le classi a voler denunciare il maestro perché ti ha messo cinque in italiano perché sa sai ci diamo nel tuo sai quanti quanti genitori vengono nel mio studio a dire dobbiamo fare una denuncia al professore perché ha messo un'auto in condotta al mio primo ma come ti permetti ma ai miei tempi se avesse avuto un cinque in condotta ma io a casa non ci potevo neanche più tornare e se avesse avuto un cinque in latino e in greco non è che andavo dallo psicologo perché io non stavo bene e stavo male con me stesso o studiavo o come si dice la nostra parte erano mazzate alla giocata forse cinquanta anni fa funzionava così vabbè forse avevano esagerato però io problemi non ne ho avuti alla fine un cinque diventavo un set e si metteva a studiare bisogna evitare di soccorrere i ragazzi per qualsiasi problema devono anche crescere e maturare con le loro gambe questa iperprotezione difenderli a tutti i costi i veri bulli sono i genitori e quando i genitori difendono i figli anche quando fanno delle nefandezze sono loro che dovrebbero essere sanzionati ai tribunali noi i loro figli è quello che ho sempre pensato e quindi la mercificazione del corpo degli adolescenti deriva un po' insomma da questo tipo di questa colpa della figura genitoriale sì della figura genitoriale e la figura anche del mondo maschile che pretende la bellezza della donna ovviamente l'uomo non se lo pone questo problema è molto più furbo se ha la panza è perché buono di panza buono di sostanza se non hai capelli ah ma sei affascinante se ce li hai grigi eh ma sale pepe se la donna ha una ruga questa società quasi quasi la esclude se la donna ha dieci chili in più si deve vergognare perché ci sono le modelle con la 38 con la 40 se noi diamo questi segnali non è normale che la ragazzina per non essere in qualche modo esclusa deve essere perfetta no anche le imperfezioni sono bellezza anche la testa ha una sua importanza questo è il discorso quindi noi abbiamo dato dei modelli completamente sbagliati la bellezza a tutti i costi e beh questo sta creando dei disagi enormi nella società basti pensare che recentemente è stato imposto che si possa rifare il seno ad una donna a 18 anni ma lo sai lo sai che 5-6 anni fa 7 anni fa un regalo di compleanno a 16 anni potrebbe essere un seno nuovo ma noi ci rendiamo conto a che punto siamo arrivati e quindi è la famiglia quella che sta venendo meno sta facendo si sta disimpegnando dei figli e sta dichiarando guerra alla scuola allora quando queste famiglie si permettono di fare queste cose un insegnante che guadagna 1500 ore al mese non so se ci arriva ma chi me lo fa fare poi mi devo trovare un avvocato che mi manda un atto a casa ma non esiste allora noi dobbiamo recuperare il dialogo scuola famiglia la famiglia deve fare la famiglia la scuola deve fare la scuola ma non è che il fallimento educativo di una famiglia poi tu lo vuoi riversare sulla scuola la colpa è della scuola non la colpa è di voi genitori questa è la verità ma chiaramente le famiglie italiane diciamo che il 60% sono ottime sono famiglie io sto parlando degli aspetti patologici attenzione non sto dando i due profondi sulla famiglia italiana perché comunque la famiglia italiana resta un caposaldo nel mondo però quando la famiglia italiana non funziona è la peggiore questo si e speriamo che anche speriamo che anche il ministero dell'istruzione ci tenga tanto a recuperare il rapporto con la scuola e con le famiglie la situazione è anche abbastanza tragica in questo senso allora avvocato io ti ringrazio per essere stato con noi ho abusato anche diciamo del tempo perché siamo stati 40 minuti ma il tempo è passato veramente velocemente volentieri ed è stato veramente prezioso e anche di indirizzo in un momento in cui chiaramente manca una guida proprio per questo istituto che è fondamentale quindi famiglia e chiaramente educazione a scuola adolescenti padri matri abbiamo parlato veramente di tutto quindi ringrazio l'avvocato Giannetto Regassani per essere stato qui con noi e ci vediamo quindi domani grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti